Musica Proseguendo anche oggi con le nostre 100 cose su One Piece Come avete visto chiaramente dalla copertina Parliamo di quel meraviglioso, incredibile, assolutamente fantastico discorso Che Doflamingo fa a Marineford Che forse è diventato anche uno dei paradigmi in realtà di tutto One Piece Prima però una cosa al volo Perché tra poco, dalle 21 sono su Twitch e mi hanno detto che il capitolo nuovo di maniera accademia è incredibile Quindi vi aspetto per una serata, ci facciamo due chiacchiere e poi ce lo leggiamo insieme Io sono in blind e ne discutiamo ad ogni modo I pirati, i pirati sono il male La marina e la giustizia Bene e male non sono nient'altro che colori su di una tela I cui nomi cambiano di continuo Ci sono bambini che non conoscono la pace Così come ci sono bambini che non conoscono la guerra Ed entrambi queste tipologie di bambini Vedono il mondo con occhi Molto, molto, molto diversi E solo chi è al potere Solo chi governa il mondo può stabilire ciò che è giusto E ciò che è sbagliato E qui, in questo momento A Marineford Noi siamo a metà Possiamo imboccare una strada O possiamo imboccare un'altra Siamo a metà tra due possibilità La giustizia vincerà La giustizia prevarlà Certo Perché sono i vincitori Che alla fine sono nel giusto E' proprio realpolitik definitiva totale Tu male io Questa frase C'è questa esternazione di Doflamingo Probabilmente l'ho detto in maniera sbagliata Però il cuore Il nucleo Di quello che Doflamingo vuole dire L'ho davvero stampato qui In testa Perché in realtà Al netto di quello che può essere Una sorta di discorso di un personaggio Che come raccontavamo già In una delle cento cose su One Piece Si è sempre trovato In una meravigliosa zona grigia Doflamingo è Il non plus ultra Delle zone grigie Nobile Pirata Re Criminale A tutte le ricchezze del mondo Ma in realtà gestisce il sottobosco criminale Quindi lui è davvero È davvero Tutto ciò E' l'emblema E' l'emblema sul serio Della zona grigia E quando si parla Di bene o male Quando si parla di giustizia e criminalità In realtà non ci sono delle distinzioni Non c'è una zona grigia O è bianco o è nero O è così o è colà C'è una linea Che divide nettamente il tutto E io che sono su internet In questo momento potete vedere Chiaramente un Berlusconi Che appare così Qui in alto E anche Berlusconi Che chiaramente noi chiamavamo Do Flasilvio È uno di quelli che Nelle zone grigie Ci ha sempre saputo Navigare Eppure dicevo Quello che dice Do Flamingo È davvero Un esempio Incredibile Di Realpolitik Perché Tutta la storia Del nostro mondo E questa è chiaramente Una banalità Ma è la verità Si basa proprio su questo assunto Ovvero Sì La storia alla fine La scrivono i vincitori E coloro che scrivono la storia Di solito Si sentono In diritto Di dire Noi siamo dalla parte del giusto Perché abbiamo vinto tutto E io mi ricordo E quindi utilizzo In questo caso One Piece Per raccontarvi Un piccolo Aneddoto Che mi riguarda Che è uno dei primissimi libri Che ci hanno dato Da leggere All'università Era un librettino Che si chiamava Metodologia Dello studio Storico Antico Il problema della storia antica È esattamente questo Ovvero Rispetto Ai contemporanei Che hanno Una marea Di dati Che hanno Una marea Di documenti Da dover vagliare Per capire Chi è nel giusto E chi è nel torto In questo caso E quindi La sovrabbondanza Di documenti Fa in modo che Il lavoro Dello storico Del futuro Che vorrà capire I nostri giorni Sia follia pura Perché lui dovrà cercare Di barcamenarsi Tra notizie vere Notizie farsi Notizie giuste Notizie sbagliate Fake news E quant'altro Il lavoro Dello storico antico Era quello Di avere A disposizione Pochissime Notizie Pochissimi Documenti E la quasi Totalità Dei documenti A noi Pervenuti Oggi Sono sempre Quelli Di coloro Che hanno Poi Sul serio In stradato La storia Perché scritta Unicamente O quasi unicamente Dai vincitori Pensate Ecco un esempio Io faccio spesso Perché è davvero Il non plus ultra Di tutto Pensate Alle guerre Puniche Pensate Per esempio All'invasione Di Annibale Quanto deve essere Stata Incredibilmente Sconvolgente Alla fine Sono riuscite A prevalere E la loro La loro È quella La loro giustizia Assoluta E nel mondo Di One Piece Tutta questa Manfrina Tutto questo Pistolotto È davvero Il sostrato Che regge Poi Uno dei più Interessanti E ancora Oggi Nebulosi Misteri Del mondo Di One Piece Perché Sì La storia La fanno I vincitori E il problema Nostro È che non sappiamo Che cosa è successo Nella storia Di One Piece Sappiamo solo Che a un certo punto 800 anni Dal mondo Del presente Ci sono stati 100 anni Di cui Non si sa Assolutamente Nulla E Al termine Di questi 100 anni Di vuoto Si è venuto A creare L'attuale Organigramma Governativo Di coloro Che governano La quasi Totalità Delle nazioni Del mondo Di One Piece Che cosa è successo Che cosa Hanno stabilito Questi dominatori Che da 800 anni Governano Il mondo Di One Piece E che hanno paura Che qualcuno Scopra Ecco no Perciò la storia La scrivono I vincitori E di solito Poi cancellano Ciò che Non Ciò che è stato Hanno paura Che La storia Alternativa O che loro Potrebbero definire Alternativa In scritta Su delle pietre Indistruttibili Possa un giorno Saltar fuori Perché Sì Il nucleo È proprio Quello Che dice Do Flamingo La giustizia Vince Perché è il vincitore Che decreta Che cosa è giusto O che cosa è sbagliato Se il vincitore Diceva Che è giusto Mangiarsi I mouse Mentre invece È sbagliato Che ne so Leggere un fumetto Per dimmi Che sei una cazzata Tu sei costretto A mangiarti Il mouse E mangiarti Il mouse Diventa una prassi Comune Perché Il vincitore Nel corso della storia Diventa un qualcosa Di normale Mentre invece Questo diventa Proibito E Noi siamo fatti Così E Siamo fatti così E il fatto che Anche Oda Ci tenga a ribadire Questa Questa storia A me fa sempre pensare Che Nonostante tutto One Piece È sempre un fumetto Per ragazzi Ma Ogni tanto Si prende La briga Di staccarsi Da queste Ragazzinate Per Dipingere Quello che è Seriamente Anche Il nostro mondo Sempre visto attraverso La lente distorta Del fumetto Ad ogni modo Ditemi voi Che cosa ne pensate Se quel discorso Vi è piaciuto Non vi è piaciuto Che cosa vi è piaciuto Che cosa non vi è piaciuto Selezioni e commenti Sempre a vostra disposizione E noi ci vediamo domani Per un'altra cosa Di queste 100 cose Su One Piece Che ormai ci accompagnano E ci accompagneranno Fino ad aprile È una bella cavalcata Evviva